hai preso 5 nella verifica scritta d'italiano perché hai commesso molti errori di morfosintassi lessico punteggiatura e ortografia come puoi rimediare l'errore è sempre la spia di qualcosa che non funziona e per evitarlo bisogna conoscerlo morfosintassi lessico punteggiatura e ortografia molto probabilmente sono parole che hai sentito ma di cui non hai mai capito bene il significato altrimenti non avresti preso 5 nella verifica d'italiano per correggersi e migliorare bisogna analizzare gli errori cosa significa analizzare gli errori l'analisi consiste in primo luogo nella classificazione dell'errore per sconfiggere il nemico bisogna studiarlo attentamente il secondo passo è la correzione dell'errore classificare gli errori significa conoscere esattamente il significato delle parole lessico morfologia punteggiatura ortografia sintassi cosa vuol dirmi l'insegnante quando mi fa notare che ho commesso numerosi errori di lessico e di sintassi in questo video cercheremo di scoprirlo insieme